ben ritrovati di nuovo in questa nuova parte di video questa è la terza e non prevista perché inizialmente non la dovevo fare però purtroppo mi sono lasciato un po andare nei precedenti parti quindi ho dovuto fare un terzo spezzone in questo ultimo video per questo unboxing vedremo i film d'animazione giapponese che mi sono arrivati negli ultimi due ordini di amazon che mi sono appunto arrivati uno settimana scorsa e uno questa settimana ok iniziamo ah vi anticipo che saranno sarà un pezzo di video anche questo non dico lunghissimo però perché all'interno di queste edizioni che sono quasi tutte quante limited ci sono dentro delle cose molto interessanti che voglio farvi vedere quindi non spaventatevi se durerà un quarto d'ora pure questo però purtroppo è andata così lupen terzo the first questo è un film vero e proprio di lupen terzo sapete che a me lupen piace tantissimo e rientra perfettamente nella lista dei film insieme al castello di cagliostro per esempio solo che quello era in animazione animazione vera e propria questo invece è in cgi quindi si nota subito la differenza poi anche splendidamente colorato quindi packaging fatto bene da parte dell'anime factory e vi faccio vedere adesso il il dvd fisico qui abbiamo lupen qui abbiamo fujiko poi abbiamo un po di carte che poi vi faccio vedere abbiamo jigen purtroppo il povero gammon che molti dicono che sia un personaggio inutile viene da ridere scusatemi però è un personaggio pure lui quindi eccolo qua ve lo faccio vedere e vi state chiedendo ma zazà che fine ha fatto zazà non compare qui però compare sicuramente nella copertina eccolo qui adesso vi starete chiedendo che cosa sia questo ve lo dico subito allora questo qui è un un booklet con intanto ci sono alcune domande fatte al regista che si protraggono per altre due pagine poi abbiamo una descrizione dei personaggi più alcuni frame sotto del film abbiamo lupen abbiamo jigen vediamo se riesco a farvi vedere oh perfetto gammon fujiko rispettore zenigata letizia che dovrebbe essere la non dico la coprotagonista però è un'altra ragazza che fa parte del film lambert gerald poi abbiamo notte di produzione c'è un sacco da leggere però è interessante un'altra immagine del film ancora notte di produzione un'altra immagine e via e il logo dell'anime factory andiamo a rimettere dentro ecco fatto andiamo a rimettere dentro questo il fogliettino di 5 cose che devi sapere dell'anime e poi abbiamo questa confezioncina di plastica con le carte limited non ve le faccio vedere tutte perché sinceramente queste sono anche da collezione magari me le guardo per conto mio poi magari in un video ve le farò vedere però dentro ci sono 6 card ci sono 5 carte con lupen jigen gammon fujiko e zenigata mentre la sesta mi sembra che sia lupen placcato oro se non vado errato da quello che ho visto nella immagine di amazon ok andiamo avanti con il prossimo film l'impero dei cadaveri questo è uno dei tre film del famoso project ito project ito è il nome in codice di satoshi ito uno sceneggiatore di fantascienza purtroppo deceduto all'età di 35 anni a causa di ripetuti problemi ai polmoni inizialmente non gli dava troppo peso però poi i continui ricoveri poi alla fine è diventato addirittura quasi un mezzo cancro e se n'è andato a una giovane età un team di sceneggiatori animatori e registi hanno voluto trasporre in tre pellicole le sue trame diciamo i suoi scritti questo è uno dei suoi film ovviamente non possiamo dire che sia diretto da project ito ma la sceneggiatura è partita da lui questo è diciamo un horror particolare non so come definirlo però dai trailer mi hanno subito ispirato tantissima fiducia a questi tre film quindi li ho recuperati tutti e tre infatti questo è il primo che vi faccio vedere poi vi farò vedere gli altri due la Yamato Video ha voluto farci un bel regalo perché sono stati distribuiti proprio dalla Yamato vedete qui in basso ah c'è anche il logo dell'Anime Factory non me ne ero accorto ok come sapete i film giapponesi hanno sempre la double face a me piace tantissimo quando fanno la copertina così disco più booklet con dentro delle non delle caratteristiche comunque degli scritti delle bozze adesso vi faccio vedere un attimo sono delle bozze dei personaggi dei disegni e poi mi sembra che nelle ultime pagine ci sono delle note puoi leggerlo tutto con calma e oltre a questo booklet c'è dentro anche una card da collezione che sarebbe il poster in lingua giapponese del film e vi anticipo anche che il booklet e la card del poster giapponese sono gli extra degli altri due film quindi li troveremo anche lì l'organo genocida questo è più un action cyberpunk che un horror ma non dovrebbe mancare anche qua la parte horror anche se si parla più di fantascienza se devo essere sincero e anche questo ovviamente è un altro film che era stato partorito dalla mente di Satoshi Ito e vi faccio vedere appunto la copertina anche qua double fass questo è l'interno il classico booklet ve lo faccio vedere così al contrario però fa niente solite bozze con in fondo anche le note interessanti e poi la famosa card ok io sinceramente le card del poster queste qua non le non le aprirei neanche perché sono più belle così non so che sono da collezione però sono troppo belle incartate qua dentro quindi tranquillamente me le terrei così tanto si deve vedere solo il davanti quindi il retro è fatto così ok ci sono i loghi della Yamato Video e dell'Anime Factory però mi piacciono troppo anche diciamo rinchiuse in questa pellicola di plastica sono molto fanno molto punto collezione ok siamo quasi alla fine insomma a fine mica tanto ne mancano con questo con questo sono tre però poi vediamo Harmony anche questo fa parte della trilogia di Project Tito secondo me il film è anche forse più leggero rispetto agli altri due anche questo è una sorta di action sci-fi con anche dentro forse un pelino di fantasy se così si può dire è appunto il film forse più luminoso per quanto riguarda il concept per quanto riguarda anche la copertina e il cofanetto bellissimo il disco con queste tonalità molto fucsia molto nere quindi mi piace molto quando meschiano tutti questi colori a me piace il il booklet ve lo faccio vedere al contrario come l'altro ci sono le solite bozze di personaggi disegni e altre informazioni e anche qui la card che ancora una volta confermo come ho detto prima che non ho intenzione di scartare la pellicola di plastica perché sono più belle così bene prima di passare agli ultimi due film una precisazione su questa trilogia di Project Tito non c'è un ordine particolare di visione potete vederlo in qualsiasi ordine io vi anticipo che prima mi vedo l'organo genocida poi mi vedrò l'impero dei cadaveri e poi Harmony visto che Harmony mi sembra quello più luminoso tra virgolette all'apparenza potrebbe essere luminoso ma magari poi il film è più dark adesso vediamo però questo qui è il mio ordine di visione che ho impostato ora andiamo avanti con quella che doveva essere anzi è una visual novel ma in realtà è anche un manga ci hanno fatto poi anche un film in questo caso parliamo di Fate Stay Night io non conoscevo questa opera però alla fine mi sono documentato a quanto pare sia il primo che il secondo film infatti sul letto ho anche il secondo film poi ve lo faccio vedere sono stati molto ben recensiti da critiche pubblico soprattutto lo dando la qualità grafica delle immagini infatti lo studio di realizzazione che si chiama UFO Table che dal nome potrebbe sembrare in inglese ma in realtà è nipponico al 100% hanno fatto quest'opera che è divisa in tre film il terzo film purtroppo non è uscito causa pandemia quindi speriamo che esca presto o magari a sto punto mettiamolo direttamente in un video che facciamo prima ma siccome questi due film hanno fatto molti incassi in Giappone soprattutto anche in Italia ovviamente un po' di incassi li hanno fatti ma sapete come vengono trattati i film giapponesi in Italia rimangono due o tre giorni e poi vaffanculo in un video vabbè io non sono d'accordo su questa politica di rilascio dei film giapponesi ma lasciamo stare perché tanto la mia opinione da comune mortale non la guarderà nessuno di quelli al potere nella distribuzione comunque Fate Stay Night diciamo che è non so allora intanto è giapponese animazione giapponese però possiamo mischiare dentro anche l'azione l'avventura il drammatico anche un pelo di horror mentre nel secondo film vi anticipo oltre a questi generi c'è anche una punta leggera di erotico ci sono alcune scene con diversi riferimenti però non è assolutamente esplicito anche se l'apparenza potrebbe sembrare il dvd aveva aveva perché l'ho tolta questa carta che tu ci metti adesso al contrario aspetta che lo giriamo ci metteva appunto il film dentro però quando lo inserivo nel mio scaffale avevo paura che si rovinasse la carta infatti devo stare molto attento quando lo metto a posto dvd first press della Dynit first press vuol dire che è la prima stampa infatti sono film abbastanza nuovi 2018 il primo 2019 il secondo sì esatto cofanetto di cartoncino che si toglie dietro perché purtroppo nella custodia fisica del dvd non ci sta per pochissimi millimetri abbiamo il booklet con diverse immagini un attimo che poggiamo il dvd sono diverse immagini dei personaggi del film sono molto curioso ragazzi sono molto curioso perché siccome è un franchise possiamo chiamarlo così un franchise che non conoscevo sono sicuro che mi darà molte soddisfazioni sapete che a me la animazione giapponese piace tantissimo però quella particolare quella fatta bene ma a quanto è fatto ecco queste immagini sono un po' cose però fa niente cioè a me la animazione giapponese piace tantissimo però deve essere veramente fatta bene e io infatti tutti i film giapponesi che vi ho fatto vedere nei precedenti unboxing scusate un piccolo rigurgito sono fatti da dio giapponesi non si dice non si può dire nulla sul loro stile d'animazione dvd e questo è il retro peraltro ottima la scelta di scrittura dei doppiatori giapponesi e di fianco quelli italiani questo mi piace tantissimo disco poi abbiamo una copertina che se la metto ad una fonte di luce propietta sembra quasi metallizzata poi abbiamo questo qua è un foglio promozionale e poi il poster eccolo qui non ve lo faccio vedere tutto però è il poster italiano perché sennò ora che lo reincartiamo tutto perdiamo tempo ok andiamo a mettere dentro tutto è un gran peccato che non ci stia anche il booklet perché veramente così almeno mi risparmiavo la fatica di dover ogni volta tirare fuori il disco e automaticamente appena lo tiro fuori esce anche il booklet ma fa niente facciamo questo piccolo sforzo ecco fatto e adesso finiamo in bellezza con il secondo film il secondo film eccolo qua purtroppo c'è anche qui la carta che si toglie avrei preferito una cosa un po' più da steelbook tipo con la carta rinforzata a modo di cartoncino ti ci metti mezzo il film e basta anche questo stessa cosa dietro c'è tutto l'elenco dei doppiatori giapponesi italiani caratteristiche tecniche un pezzo di trama anche qui cartoncino che si sfila e anche qui booklet che devo metterlo per forza disunito perché nella custodia fisica non ci sta vabbè fa niente non voglio assolutamente criticare questa scelta però come minimo avrei voluto vedere il booklet qui dentro però vabbè gli spazi sono quelli che sono faccio vedere prima il booklet va così almeno lo mettiamo via ancora ottime queste immagini poi sapete che i giapponesi sono fenomenali e non a caso si dice che siano possiamo dire i migliori nei film d'animazione con tutto rispetto per Pixar Dreamworks e tutta la compagnia però i giapponesi assolutamente non si può dire nulla sulla qualità grafica e anche su come si possono creare dei film così belli ok e adesso per finire il disco anche qui poster in italiano e qui c'è anche la famosa card che veramente toccandola sembra di metallo anche perché risplenda la luce quindi sembra fatta una specie di litografia forse questo è il termine giusto con il logo del film dietro perfetto ok andiamo no la litografia la mettiamo davanti perché sennò si rovina a posto a posto chiudiamo qua booklet dietro a posto rimettiamo il cartoncino questa è l'unica critica che faccio avrebbero dovuto mettere un cartoncino più rinforzato invece di questa che basta un niente per spaccarla ok ragazzi abbiamo ufficialmente finito e abbiamo anche sforato il quarto d'ora quindi direi di fermarmi vi anticipo un'altra cosa prima di concludere questo sarà l'ultimo unboxing che vedrete per un po' perché non ne farò più probabilmente fino a marzo barra aprile perché in quel periodo escono dei giochi interessanti per i quali voglio risparmiare un po' di soldi quindi per i film direi che sono a posto anche perché tra il mese scorso e questo mese avrò recuperato quasi una settantina di film tutta quindi direi di fermarmi qua ci vediamo al prossimo video grazie ancora della vostra attenzione e vi chiedo ancora scusa per l'eccessiva lunghezza a tratti di questi video però voglio essere super dettagliato quando faccio questi unboxing ok benissimo ricordatevi se non l'avete ancora già fatto se non l'avete fatto di iscrivervi al canale per stare in mia compagnia perché comunque ci saranno altri video prossimamente e di attivare la campanella delle notifiche per essere aggiornati sui nuovi video che pubblico ok alla prossima e grazie ancora di essere rimasti in mia compagnia ciao ragazzi grazie a tutti